Buonasera, bentrovati. A nome di Positano News mi permetto di interrompere la vostra concentrazione. Il maestro Armando Ciacci ha regalato il vostro curriculum, ma lo vogliamo sentire dalla vostra bocca. Siete così gentili da presentarsi al nostro pubblico di Positano News? Grazie. Avete molti colleghi lì a Gragnano? Gragnano? Ce ne sono molti. C'era una scuola in passato dedicata a... Esatto, ci sta ancora una scuola, però la maggior parte degli arrivi che frequentano questa scuola non sono di Gragnano. Ah, ho capito. Bene, vi lasciamo alla vostra concentrazione, al vostro concerto, alle riprese sull'altare. Buonasera, ragazzi.